quella che ti voglio presentare oggi è sicuramente una delle vetture più vendute della propria categoria parliamo della toyota yaris con motorizzazione 1.4 turbodiesel unico proprietario andiamo verifichiamo adesso l'accensione e il controllo fumi dagli scarichi l'esemplare proposto è un veicolo italiano ufficiale toyota unico proprietario con tutto lo storico manutenzione service registrato in rete ufficiale i chilometri attualmente sono 57 mila pochissimi per un motore diesel pochissimi l'azione di bordo è davvero completa abbiamo i fari automatici cruise control bluetooth con comandi audio al volante la regolazione elettrica degli specchietti di provisore con funzione di chiusura sistema di intrattenimento touchscreen davvero molto utile su queste vetture ma come tutte le macchine la presenza della telecamera posteriore che facilita non poco le operazioni di manovra climatizzatore automatico non poteva mancare anche la nostra presa usb sistema keyless con accensione senza chiave specchietto retrovisore interno auto anabagliante perché dovresti comprare proprio questo veicolo perché ha delle caratteristiche che lo rendono diciamo non unico però molto difficile da trovare in prima battuta il fatto che sia una vettura unico proprietario secondo dato non meno importante è tutto lo storico service quindi il book service con i tagliandi registrato in toyota e terzo fattore è la motorizzazione il 1400 turbodiesel toyota che è una delle migliori diciamo dei migliori propulsori diesel esistenti al mercato adesso per apprezzarlo appieno facciamo un piccolo test drive e testiamo tutte le sue caratteristiche cominciamo con il test di accelerazione frenata ottima ottima la frenata e perfetta l'accelerazione percorrendo questo tratto di strada con un po' sconnesso non si percepisce la minima vibrazione dell'avantreno e soprattutto un'ottima risposta delle sospensioni abbiamo avuto anche modo di verificare tutta la carrozzeria e il dato che è emerso è che è stata riverniciata solo la porta anteriore destra e per un piccolo graffio il consiglio che voglio darti è comunque quello di chiamarci per fissare un appuntamento di visione e soprattutto un test drive non dimenticate di seguirci di seguire tutti i nostri aggiornamenti sulla pagina facebook di privacar san cesario e sulla pagina youtube di privacar san cesario alla prossima vettura iscriviti al canale